che dice che soltanto il 6 aprile non si può più parlare del terremoto, bisogna ormai parlarne tutti i giorni perché l'Aquila c'ha anche i soldi, perché gli altri 360 giorni l'anno è una città completamente morta e non c'è più nulla quindi speriamo che questa cosa possa risuccedere anche che non è il 6 aprile, vai Robby, vai Robby questo è quello che pensiamo noi, di quello che è successo nella nostra città il sole rila su starebbe, l'altro giorno sarà, prenda forza nel tuo cuore e dentro l'anima e mi convince che domani, l'altro giorno sarà, per sognare ancora il sole rila su starebbe, l'altro giorno sarà, prenda forza nel tuo cuore e dentro l'anima e mi convince che domani, l'altro giorno sarà, per sognare ancora ma ti muovi così ci farò, quello che tenevo dentro no non cambia mai, io sorrido perché so, che tutto io sarò e tu ci sarai, spera da prima quando crescere ma regalato promesse, regalato certezze ma la donna forza per essere quello che sono in ogni parte di me e non del vasto e non le ghiacchie, nelle solite conclusioni le solite promesse, negli stessi ghiacchieroni sono sempre le stesse, in diverse situazioni bagna del colore, dell'amministrazione ma i forti non si paghiano ogni milioni non pari non i forti, di delle delle